venite qua seduti sit down dai, lasti lasti, seduto no 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 seduto danny, seduta no 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 seduto no 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 seduta torna di posizione se no io devo stare qua dai, lasti seduta 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 giù seduta giù seduta io taglierei questa parte seduta brava brava da brava seduta seduta penny seduta bravo dustin seduta es seduta es seduta es 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 Sì, è bravo.